...un luogo meraviglioso dove i miti come Ercole incontrano i sogni. Questo luogo è il cuore. Buonasera a tutti, siamo a Policoro nella piazza Ercole. Per la serata, la notte di Eraclea, che conclude gli eventi estivi della città ionica. Una intera estate partita con le frecce tricolore e si concluderà stasera con il concerto di Daniele Silvestri. Intanto in corso una commedia teatrale sulle orme di Ercole, Diego Sommaripa, autore e regista, con Nino Lauro. Ercole è interpretato da Peppe Romano, la musa d'Anna Maria Rita di Pace. Il progetto innovativo di marketing turistico sostenuto dall'APT e dalla regione Basilicata. L'organizzazione e la realizzazione di Con Noi Management. Poi vi faremo vedere alcune scene sulle orme di Ercole. Con noi c'è il sindaco Enrico Bianco. Sindaco, siamo a conclusione di questa stagione estiva. Che riflessioni potete fare? Sì, è stata una stagione intensa. Noi per tradizione oramai cerchiamo di arrivare, di coinvolgere anche una parte di settembre, di arrivare alla metà di settembre con l'evento conclusivo della stagione, che è l'evento dell'amministrazione comunale. La notte di Eraclea ci sono state, in verità nel pomeriggio c'è stata anche l'inaugurazione del museo multimediale della riforma fondiaria, che rimarrà aperto la settimana prossima, gestito dai ragazzi del servizio civile che operano presso la nostra biblioteca, quindi garantiremo l'accesso gratuito e l'apertura perlomeno in alcuni orari durante la giornata. È stata un'estate piena di eventi, soprattutto di eventi nuovi, eventi che hanno qualificato anche l'offerta di questa città. Noi abbiamo avuto in recente il TEDx, che è stato un evento anche innovativo per Policoro, ma anche durante la stagione abbiamo avuto i premi letterari, che oramai si sono affermati con il premio Dinamita Mesteani, il premio Eraclea, le tradizionali Blues in Town e Pantone Swing, che sono sempre una grande occasione, una grande vetrina per questa città. Abbiamo iniziato con le frecce di coloro, ci sono stati anche altri eventi, in verità, che hanno allietato la nostra estate. Non possiamo citarli tutti, ma la gente si è divertita, Sindaco? Penso di sì, noi abbiamo fatto il possibile per farla divertire, cercando di coprire un periodo il più lungo possibile, perché è facile poi fare gli eventi, avere persone nella settimana di agosto. Abbiamo cercato di farlo da giugno a settembre. Sindaco, destagionalizziamo. Durante l'inverno qualche anticipazione? Abbiamo una bella stagione sportiva alle Porto, noi come l'anno scorso utilizzeremo molto il Pala Ercole, abbiamo tanti eventi di rilevanza extra regionale che si svolgeranno al Pala Ercole e che ci consegneranno di portare persone, molte persone sul nostro territorio, a partire dal primo evento che ci sarà la settimana prossima, che è legato al nazionale di calcio al 5, il mese di ottobre, la qualificazione, avremo le finali di Coppa Italia la primavera prossima, ma durante quest'inverno avremo manifestazioni importanti di molte federazioni sportive. Grazie Sindaco, buonanotte di Eraclea. Grazie a voi. E noi adesso andiamo a riprendere qualche scena sulle orme di Ercole. e noi adesso andiamo a riprendere qualche scena sulle orme di Ercole, quindi io non ho fatto un esplorato, che mi raccogliendo vedete, lì voi vi voluti ai miei piani, le mie pelle fissate là, la mia mente già gira veloce, precoce, pronta alle fatiche, all'impresa, quando spruisciano i siti, non voglio morire! voglio conoscere la vita, voglio sapere cosa c'è tra questo principio e la fine, voglio incontrare il mio destino, chi diverrò, chi amerò, con chi mi batterò, devo imparare presto a reagire per non soccondere, a vincere per non morire, e forse questo è il mio destino, sento una sete di vittoria, senza non so stare, devo vincere, non posso farne a meno, ne ho bisogno, sono nato per questo, mettere la forza al servizio dell'intelligenza! acqua, datemi dell'acqua, dell'acqua per favore! prendo le due sette, e quando fissi, e riusco gli occhi, sui piccoli dei miei, il mio respiro in affanno, il loro fermo, portatemi dell'acqua, ho detto! senza sforzo che annovi, una all'altra, così forte da strangolarle! nessun sigla, nessuna polla, nessuna pelle vicina per trinturano, fisso incredulo le mie mani, di cosa sono capace, così piccolo e già così forte, gioisco, mi rilasso, nessuno sforzo, la prima fatica, la prima vittoria! ehi, 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 ecco l'acqua! non ho più sete! come voi avete detto, acqua, datemi dell'acqua, ho sentito bene? prima, adesso è tardi! voi l'avete detto cinque minuti fa! io sono un dio, e quando comando bisogna eseguire! oh Dio! subito! Dio, Dio, che bel Dio che siete! ma sono andato a prendere con le mie mani, fino alla sorgente sorgiva del fiume Basento! e che cos'è questo modo di rivolgerti a me? che c'è? parla in italiano e non toccarmi mai più! va bene, scusate! sono andato a prenderla con le mie medesime mani fino alla sorgente sorgiva del signor sorgente Basento! ma che vergogna! possibile che Zeus, mio padre, non avesse paggetto migliore da mandarmi! e no! paggetto no, paggetto, non me lo concedono! no? no, perché io sono la vostra guardia del corpo! il vostro accompagnatore, la vostra ombra! e comunque tenete bene presente che non si sputa nel piatto dove avete mangiato! guarda che io e te non abbiamo mangiato proprio nulla insieme anche perché con la fame che ti ritrovi io sarei rimasto digiuno! sulle orme di Ercole, piazza Eraclea, Policoro! ho dimenticato la quarta...